Io nell'altro mi c'è Risalgono a settembre dello scorso anno gli ultimi cambiamenti dei parroci nella diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola dovuti ai raggiungimenti d'età, alla situazione Covid e alla perdita delle principali figure pastorali. Oggi, tramite un comunicato, il Vescovo, in comunione con gli organismi di partecipazione e discernimento, hanno elencato i nuovi spostamenti e insediamenti dei preti, che prenderanno inizio il ruolo ruolo a partire dal prossimo mese di settembre. Tra i parroci spicca il nome di Don Giorgio Giovanelli, che dalla comunità di Sant'Orso si sposta a quella di Santa Maria Assunta in Cattedrale a Fano. Anche il suo collega Don Matteo Pucci, sempre della parrocchia Santa Maria Goretti, lascerà Sant'Orso per trasferirsi a Calcinelli di Colli al Metauro, nella chiesa Santa Croce. A prendere le redini della parrocchia santorsese sarà dunque Don Giuseppe Marini. A fare ingresso a San Lazzaro, nella parrocchia Gran Madre di Dio, sarà Don Francesco Londei. Don Gabriele Micci, invece, inizierà il suo ministero di parroco nelle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, Marco e Severo a Monte Felcino e di San Giuseppe Lavoratore di Sterpeti. Infine, Don Cesario Mattias offrirà la sua collaborazione nelle parrocchie del Cuore Immacolato di Maria Frontone e dei Santi Biagio e Abbondio a Serra Sant'Abbondio, condividendo il suo ministero con Don Filippo Fratelloni, nella zona pastorale di Pergola. A lasciare l'incarico per raggiunti limiti di età, Don Luciano Torcellini, che si renderà comunque disponibile a collaborare con la comunità pastorale del Centro Storico di Fano. Grazie a tutti.